bella ragazzi e bentornati sul mio canale allora raccogliamo il buonissimo pacchettino gratis come state tutto a posto io sto lavorando veramente tanto come vi dicevo nello scorso video quindi per quello che sono un attimo meno presente ma ragazzi vi leggo a tutti quindi i commenti che voi scrivete io ve li commento sempre come avete visto quindi ci sono non ci sono però vi leggo sempre allora cosa abbiamo qua posiziona il dinosauro appena schiuso ok facciamo così e sceleriamo gratis questo qua così ce lo raccogliamo ce lo portiamo anche al 40 insieme se riusciamo questo qua perfetto posizioniamo abbiamo finito anche la missione che ci dà un bel po di esperienza è trovato uno non sono sicuro che abbia esattamente la stessa forma di quello che ho visto prima perché proprio questo dinosauro vieni che l'ho trovato le risposte perfetto allora intanto facciamo così lo portiamo al 10 poi andiamo a vedere che cosa ci dice nella nuova missione allora è tutto il giorno che aspettiamo sta arrivando continua a sorvegliare la piattaforma di atterraggio è possibile che l'ho voli non intercetti il drone qui vede tutto perfetto a quello ci penso io sposta tre inseguitori solari attorno all'eliporto poi vediamo come si fa raccoglie 10 mila moneta da un piccio di controllo queste cose qui sono abbastanza semplici nel frattempo vediamo un attimo se qui nel porto c'è qualcosa che mi può servire come sempre io ve lo consiglio un botto raga questo no questo no questo sì perfetto anche questo ne ha tutto fa brodo prendiamo tutto ottimo ok ragazzi allora facciamo un attimo una cosa ci facciamo questo bel evento andiamo a fare nuovo combattimento allora beh portiamo al 40 prima quello lì così lo abbiamo anche più forte ragazzi facciamo una bella roba questo qua acceda ragazzi se raccogliamolo perfetto vi accenderemo un secondino così lo abbiamo al 40 questo 8 9 10 evolvi perlomeno è un dino più forte costerà un po di risorse come vedete però fa niente posizioniamolo così lo usiamo subito in combattimento che non è per niente male secondo me al 40 questo è fortissimo non so se voi l'avete sbloccato raga dal torneo ma veramente veramente forte questo ok non è più forte è vero però ti può risolvere parecchi combattimenti secondo me ok di non c'è ria si va bene ha accelerato di nulla sostanzialmente ok perfetto e ora lo portiamo al 40 raga vediamo un po com'è chiede tantissime risorse guardate un milione e duecentomila per salire di un livello milione e due trentadue milione e sessantacinque livello massimo livello massimo a 2930 di vita 1119 di attacco e 274 mila monete ogni 12 ore straordinario sono proprio contento di averlo fatto perché questo ripeto sicuramente nei combattimenti sarà fortissimo tra l'altro adesso andiamo subito a usarlo lo vedremo proprio immediatamente in azione perfetto raga vai proviamolo subito allora battaglia e ci facciamo questa qui allora contro di quello lì ovviamente è un monosauro nuovo poi ci facciamo questo e da il monosauro iniziamolo subito e vediamo un po' come va 1.679 che attacco quando sei in vantaggio facciamolo subito fuori bellissimo ok prima andato anche il cronosauro mi piacerebbe avere però vedo che non è proprio fortissimo quindi vabbè 1.520 facciamo così noi 3.240 lui ha eh non è non è poco effettivamente l'ortocono mi piacerebbe averlo poi da lui io cambio sempre faccio così potrei anche provare a fare di 3 attacchi almeno ce lo facciamo fuori perfetto e ne rimane uno che ha un bel po' di vita ma dovremmo farcela 2 a 4 eh di rimane 2 ma ci ha fatto un bel po' male eh ok facciamo così 4 riserve qua niente se ci attacca ci ammazza ragazzi tanto il prossimo ne ha 8 ok facciamo così allora proviamo un attacco da 8 vediamo che cosa succede perfetto perfetto chiaramente muore 14.000 di danno non male ok dinosauro vittoria cappetto ok che ci andiamo a fare l'ultima battaglia direi vediamo insieme che cosa si vince allora contro colori sblocchiamo questo e ci siamo poi di nuovo questo qua benissimo 4.000 di vita è difficilissimo ragazzi mi servirebbe questo qua ma non lo so eh combattimento molto difficile raga combattimento molto molto difficile allora riserva subito ok ok iniziamo malissimo iniziamo malissimo lui già mi toglie metà vita con questo aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai la vedo difficilissima ragazzi però aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia vedo male 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 4704 vedo male 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 ai 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 sta perché l'ultimo combattimento è però veramente trosto così 2 a 3 ai 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 adesso lui a 2 ok il suo prossimo a 0 vediamo un attimino mi ha fatto poi il dinosauro che è quello più forte che ho eh aia raga aia raga mi sa che non mi sa che non vinciamo qua mi sa che non vinciamo quasi certo non vinciamo peccato aia basta abbiamo perso abbiamo perso ragazzi combattimento veramente difficile devo dire basta perso ok arrendiamoci veramente difficile veramente difficile devo un attimo pensarci bene perché il combattimento è questo devo fare un attimo dei pensieri perché è veramente tosta comunque ci andiamo a fare qualcosa di un attimino più semplice direi è questo qua perfetto ci mettiamo lui lui e lui e via iniziamo questo dovrebbero essere dovrebbero essere dovrebbero essere un attimo più semplice facciamo subito una riserva ok 2100 lui ha incredibile facciamo così perfetto non so se si è difeso ho fatto una riserva io lo attacco di due e via vediamo vabbè lo sapevo vabbè tanto lo indebolito ok 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 attaccami attaccami benissimo ok ok lo riserva ok quindi la 2 vediamo un attimo cosa fa non mi attacca di niente niente starà difendendo sul fondo io qua lo attacco di 3 così comunque lo facciamo fuori in teoria perfetto bastava un attacco chiaramente raga via primo andato poi 4 2 6 mi attaccherà di 5 almeno ok immaginavo rimane 1 contro attacchi lo facciamo fuori allora 1443 perfetto e via ottimo ultimo suodino raga io proverei così con 7 la proviamo così ok raga chiaramente abbiamo vinto intanto vi lascio qua negli ultimi secondi di video l'anteprima degli ultimi miei due così ve li andate a recuperare il logo del canale per iscrivervi se i contenuti vi piacciono ragazzi dovrei tornare con gta non vi preoccupate ma sicuramente lo faremo poi abbiamo sbloccato intanto lo scafognato che già abbiamo però intanto a vero facciamo schiudere quindi raga vi ringrazio veramente a tutti di cuore e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi